Meno note di commissari e di investigatori e spero che imparerete a conoscerli e ad amarli per quello che sono, con i loro pregi e con i loro difetti. Prego. È così che il leone, dopo aver drizzato il pelo e le orecchie, sfoderato le zanne e affilato gli artigli, si è messo ufficialmente in caccia. Anzi no, prima ha lanciato un lungo sms con il quale, come al solito, ha passato a Diana De Rossi la ghiotta notizia della notte, perché la sua amante potesse servirla per colazione ai fedelissimi di TRF. Ma subito dopo, prima ancora di rincasare, per corrigarsi per quelle due o tre ore che lo separavano dal suono della sveglia, ha convocato in questura una riunione. Una riunione straordinaria, da tenersi alle prime luci dell'alba. Avete bevuto il caffè? Ha chiesto per prima cosa agli agenti ancora assonnati. Qualcuno gli ha risposto un sì stentato, la maggior parte si è limitata ad abbozzare un mutuo cenno d'assenso. Pochi altri, i cui nomi Leonardo ha subito appuntato mentalmente nel taccuino nero degli appunti, hanno semplicemente alzato gli occhi al soffitto, con espressione rassegnata. Allora vi consiglio di verne subito un altro, perché da adesso in poi nessuno di noi andrà più a dormire o soltanto a pisciare, se non avremo acchiappato gli spacciatori che hanno ammazzato quei due ragazzini. Non c'è stato bisogno d'altro e un rumore di serie smosse e un vociale confuso hanno fatto da overture a una di quelle battute destinate a lasciare il segno. Ah, una cosa ragazzi! Gli ha fermato il commissario Cartona mentre stavano per abbandonare la Salla di Unione. Se insieme ai ciuffi di Gramigna che strapperemo via ci resterà impigliato qualche fiorellino di campo, mi hanno assicurato che almeno per questa volta non vi saranno fatti i soliti problemi. D'accordo? E questo è un assaggio della figura del commissario Leonardo Cardona, detto Il Leone di Monteselva di Patrizio Faccioli. Allora, Patrizio, a te parlarne. Bisogna cominciare a dire perché si scrive di giallo, ci sono tanti argomenti di cui si può scrivere, la nostra vita è piena di, se vogliamo, di avvenimenti brutti che ci vengono passati ogni giorno dai giornali, dalla televisione, da tutti i media. La domanda che mi viene fatta spesso è perché tu scrivi storie di altre brutture, di crimini, di indagini. In realtà diciamo che ciò che esce come prodotto da uno scrittore è ciò che entra nel momento della formazione. Quando io ho cominciato a leggere Gialli, io ritengo che Giallo Mondadori sia stato uno dei veicoli di diffusione della lettura più potente, più forte negli anni del dopoguerra, diciamo, dagli anni 50 in poi. tra l'altro nell'edizione dei Gialli Mondadori c'erano fior di scrittori, c'era Agatha Christi, c'era Ellen Queen, c'era Stanley Gardner, c'era Wallace, quindi degli scrittori che oltre ad essere dei giallisti sono anche e soprattutto dei bravi mandatori. Quindi io mi sono nutrito di questi Gialli e mi piaceva talmente tanto che poi crescendo, andando a scuola, appassionandomi poi ad altre cose, ad altre letture, ad altri scrittori, ho pensato ma se mi piace talmente tanto leggere storie di questo tipo, tanto vale che me le racconti da solo. E così ho cominciato a scrivere dapprima per me, poi se uno scrittore vi dice io scrivo per me, i miei scritti li tengo nel cassetto, non mi importa che li leggano gli altri, non gli credete perché gli viene fuori il naso come Pinocchio. Nel momento in cui noi mettiamo su carta qualcosa, anche se lo nascondiamo nel più profondo dei cassetti, il nostro desiderio segreto è che qualcuno frughi in quel cassetto e lo legga. Il commissario Cardona perché è nato? Il commissario Cardona è nato perché ci sono tanti commissari, anche qui non c'era bisogno di crearne un altro. Ma a un certo punto mi sono reso conto che un po' c'era un certo tipo di cliché nella costruzione di questi personaggi, o c'era il commissario quasi un santo che agiva soltanto perché voleva difendere i deboli, voleva che la legge fosse rispettata, c'era il commissario giustiziere che invece era essenzialmente un sadico che serviva alla legge soltanto per dare sfogo alle proprie frustrazioni. I cliché a me non piacciono, a nessuno di noi, io credo che neanche il più cattivo dei cattivi sia totalmente cattivo e neppure il santo più venerato sia stato sempre totalmente buono. Siamo inevitabilmente un mix di cose buone e cose cattive. Il commissario perdona proprio questo, rappresenta da una parte ciò che vorrei essere io e dall'altra parte ciò che invece abborano, come dice Mughini, che assolutamente non mi piace nelle altre persone. Sono caratteristiche che sono presenti entrambe in me, perché poi bisogna avere anche un minimo di autocritica e quindi individuare le, tra virgolette, tentazioni che possono nascere in un percorso comportamentale in una propria persona. E quindi affrontando questo personaggio che poi è nato, tra l'altro, è nato in un romanzo che non è il primo pubblicato, che è Seconda B, in cui non doveva essere protagonista. Seconda B narra di un fatto molto particolare, cioè di una maestra che impazzisce e sequestra la propria classe, creando in una cittadina di cui poi parleremo Montesello, un clima particolare, perché poi in una cittadina così piccola, nella scuola i bambini o sono figli, o sono nipoti, o sono figli di amici e di parenti. Quindi viene coinvolta in evitabilmente tutta la cittadina come in un corso in questa storia. Il commissario non doveva essere il protagonista, il commissario doveva essere semplicemente un inquirente che, fra l'altro, aveva la disgrazia di avere una persona a cui teneva molto coinvolta nella faccenda e la protagonista doveva essere invece la maestra Antonini, che era la maestra che impazziva. Nella scrittura però i personaggi hanno una personalità, hanno una volontà propria. Io dico che il commissario Cardona, quando è entrato in questo romanzo, si è seduto accanto a me davanti al computer e non se ne è voluto più andare. Ti interrompo un secondo. Tu, Cardona, però, per questo, anche per essere un po' cattinella, non è un fior di simpatia. Assolutamente, però. Cominciamo subito a chiarirlo. Naturalmente, io parlo anche, ma è inevitabile, dal punto di vista femminile, perché, ahimè, o per fortuna, secondo i punti di vista, ma sono una donna. Non è questa persona galante. Non è che tratta troppo male, non è tratta neanche troppo bene le donne. Non è troppo raffinato, è troppo ironico, è qualche botta caffoncello. Quindi, se sei seduto vicino a te, io non credo che ti abbia poi così conquistato, tipo, io lo sai, no, che poi sono cattiva, mi viene in presenza. Non è stato un masico, come si dice. Sì, no, no, ci vado giù, perché, se no sarebbe tutto ovvio e tutto scontato. Però, però, alla fine si dimostra abbastanza intelligente. Cosa rara, eh? Però, eh, alla fine si dimostra un personaggio abbastanza intelligente. Se, dove dovete dire, signori? Succede, succede anche in chi porta i pantaloni, qualche volta di essere umano. Succede pure anche gli uomini, eh. Però, ecco, questo commissario è un po', un po' tanto, fuori dagli schemi. Come del resto, sono le figure che abbiamo scelto per questa rassegna di giallo. Fuori dagli schemi lo è. Perché, chiaramente, non è proprio seguente alla legge, eccetera, eccetera, ma non è neanche che si discosta troppo. Non è un violento, questo no? Rischia ma... Diciamo che in qualche interrogatorio, forse, da... Qualche interrogatorio un po' pesante magari lo fa. Sì, è un po' pesante, però non è proprio... Cioè, non è una persona eccessivamente violenta. Però... Quanto basta. Ecco, è un violento quanto basta. Siamo abituati adesso a vedere delle cose che... Eh, no. Però, tutto sommato, ci appare abbastanza vicino e forse è questo che ci interessava. Alla figura di quel commissario che potrebbe abitare sul nostro Pianeottolo. Adesso io vorrei che, cortesemente, ci dicessi come mai... Perché lui ha scritto ben quattro romanzi nel quale appare la figura di questo commissario Garduna. C'è questa evoluzione... E non finisce qui. Bene. E non finisce qui. E non è una minaccia. E non è una minaccia. Come mai dal primo romanzo, questo SMS, dove, diciamo, questo commissario gioca la figura proprio del commissario classico. Si arriva a questa seconda B dove, volente o nolente, tu dici nolente, lui si è seduto lì, il commissario, invece, diventa così dalla figura di spondo al protagonista. Tu mi dici si è seduto vicino a te. Io credo che, in realtà, sia proprio dovuto al fatto che non è troppo bello, non è troppo alto, non è atletico, non ha la pistola facile, ha una se... Eh? Non ne piace? No? Però non è neanche troppo brutto. Non ha, capito? È quella figura che è abbastanza realistica, ha capito? Forse è proprio questo. Dove è nato? A verità in sanità? Allora... A vita? Ma quello potrebbe andare, guardi. No, ma non è commissario. Ottima, ottima. Ma chi? L'autore o il commissario? Il commissario. Peccato però, peccato che però a me mi sta bruciando uno dei prossimi romani che narra proprio le origini del commissario Cardone. Eh, è importantissimo. Eh, eh, adesso risponderà l'autore a questo punto. Questa si può dire. Allora, Cardone ha 40 anni. Eh, quindi è sempre 40 anni. Ah, mi faccio così 40 anni. 40 anni, eh? Ha 40 anni. No, no, sud. Allora, Cardone è un cognome che è di origine ispanica, ma, però questo io le sto anticipando perché finora di Cardone non si sa nulla. Però Cardone ha un'origine, diciamo, ispanica e poi è venuto in Italia, in una certa parte d'Italia, prima di trasferirsi a Monteselva. Eh, Cardone è un personaggio... Un personaggio è a Monteselva? Monteselva. È un paese che esiste? No, no, ma Monteselva è come il... Come Brigata. Esatto. Il corretto. E qui questo merita un inciso. Perché Monteselva? E così rispondiamo indirettamente anche alla domanda della signora. Ci sono due modi di narrare. Cioè, se uno scrittore... ha un approccio onesto con il lettore. Uno scrittore può scrivere dei posti che conosce bene. Io sono nato a Roma, poi per lavoro ho girato l'Italia, ho vissuto parecchio tempo a Milano, ho vissuto in Sardegna, ora sono a Brescia, e quindi potrei scrivere romanzi in piena onestà con il mio lettore, ambientati in queste, che non è poco già. Comunque ho girato un po' di posti, quindi una certa varietà di ambientazioni ce le potrei avere. Oppure potrei scrivere un romanzo, come ha fatto il povero Faletti, ambientato a New York. Faletti probabilmente è stato... Io non sono un buonista, quindi le cose, le critiche le faccio anche, non ho totem. Faletti è una persona che io stimo molto, è uno scrittore che mi è piaciuto molto, però lo prendo solo per esempio per questo. Ha scritto romanzi ambientati a New York, in Costa Azzurra, e probabilmente posti che lui ha visitato, perché magari ci ha passato anche dei mesi, ma io credo che per poter trasmettere delle emozioni, dei suoni, degli odori, delle sensazioni luminose, bisogna conoscere i posti che si narrano, in modo, se scusate la parola, più intimo. E questo è un sistema che però ha le sue limitazioni, perché la fantasia poi si deve limitare a pochi posti che si conoscono per il proprio percorso di vita. Oppure c'è il discorso che ha fatto Sargari, Sargari non si è mai mosso da Genova, e ha scritto romanzi ambientati in India, in Oceania, nelle Americhe, in Africa, dappertutto. Ha scritto storie di pirati, ha scritto storie di Hindu, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando scriveva Sargari non c'era National Geographic, non c'era Internet. Quindi il mondo che ha creato Sargari, in fondo, è un mondo che porta quei nomi, porta quelle ambientazioni, ma è un mondo che ha creato l'autore stesso, e che nessuno, e ha fatto conoscere a tanti lettori. Io ho amato Sargari in un modo spassionato, ma per me l'India è realmente quella di Tremont-Nike, la Malesia è quella di Sandokan, non so quale sia la realtà, finché non ci andrò io non conoscerò qual è la realtà vera. Oppure c'è il terzo modo, che è quello che ho scelto, quello che ha scelto, che ha scelto Camilleri, ovviamente, ma che hanno scelto anche tanti altri autori, di creare una città dell'anima, dell'immaginazione. Questo rappresenta due vantaggi. Prima cosa, si può costruire la città gradualmente, si possono aggiungere vie, si possono aggiungere posti, eccetera, e il lettore costruisce la città insieme allo scrittore. In più, essendo una città che è immaginaria, ma reale, perché per scrivere una cosa del genere bisogna proprio fare la piantina della città, bisogna capire, se no non è coerente la narrazione, no? Se io dico che la zona malfamata di Monteselva è la zona industriale, io mi devo fare una piantina della zona industriale. Se dico che la biblioteca in cui si svolge SMS è in centro, vicino al Duomo, vicino al Comune, io devo avere in mente la piantina. Quindi questa città che da una parte è immaginaria e dall'altra invece è estremamente reale. È un posto in cui si possono riversare caratteristiche di altre città che ci sono conosciute. Quindi si travasano le proprie esperienze e si trasmettono. Si può trasformare in qualcosa. Monteselva per me è la sintesi della provincia italiana, di un certo tipo di provincia italiana. In questo sì, assolutamente identica, per le mie esponenze, da Iglesias, dove sono vissuto tre anni in Sardegna, a Piacenza. Ci sono dei caratteri della provincia che non sono assolutamente assimilabili a quelli della grande città, Milano e Roma, e che sono diversi ovviamente da regione a regione per certe caratteristiche peculiari, ma in realtà per altre sono sempre le stesse. Quindi perché ho costruito Monteselva? Perché Monteselva è, e tra l'altro c'è un'altra cosa, la provincia è un ambiente più stabile. Nelle città con i flussi migratori, con il grande rimescolamento di razze e culture, che è un vantaggio. In America è stato trasformato in vantaggio, in Italia stiamo ancora faticando, ma alla fine anche quello verrà. Io sono uno che dice che dall'incrocio fra la cultura cristiana, musulmana, ebraica, eccetera, può nascere veramente qualcosa di nuovo e qualcosa di potente, ma si perde un po' l'identità del posto, della tradizione. In una provincia, invece, che per ora, una provincia come Monteselva, o come può essere altre province italiane, si mantiene un po' di più certe caratteristiche peculiari che sono state narrate anche nella filmografia italiana che ha ambientato storia in provincia. Praticamente, dal dopoguerra in poi, parecchia della narrazione, Moravia, eccetera, 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 Bellacqua, scusate, Bellacqua, e compagni hanno ambientato i loro racconti in un certo tipo di provincia che è rimasta in un certo modo uguale a se stessa. Questo è... Io però continuo ad essere molto cattiva, no? Perché... Io vado, allora. Sì, dopo che non vedete. Allora, e continuo a dirti una cosa. Tutto sommato, questo Cardona, no? Alla fine, sì, l'assassino lo trova, no? Per carità. Però non è mai... Non voglio dire che è contento, perché forse un commissario che trova un assassino poi non è così contento. Mi sembra sempre come una vena un po' insoddisfatta, come una vena... Come dire, vabbè... Ecco, non so se... È come se stesse facendo un lavoro come quello che timbra i fogli, eh? Mi diceva, beh, li devo timbrare, ecco, adesso non si timbrano più, si fanno al computer. Quindi tu mi dici, scusa, che ne stai scrivendo, stai preparandoci un altro romanzo. Sì. Ma vedremo mai un Cardona che non c'ha la fretta ad andarsene a fare tutte altre cose? Allora, perché contento del risultato? Tu hai presente quando un gatto gioca col topolino? Il gatto si diverte perché il topolino è vivo. Quando il topolino è stordito, si ferma e non si muove più, il gatto con la sua zampa, non lo dilagna, ma con la sua zampa vellutata, gli dà una spinta per farlo muovere ancora, come se fosse un giocattolo a molla. La perversione, fra virgolette, di Cardona, è che ciò che lo appassiona non è il risultato finale, ma la caccia. Lui si diverte finché indaglia. Nel momento in cui... Ed è deparato anche al di là della superfacità della sua vita privata, perché Cardona è sposato, ha un figlio e ha un amante istituzionale, una giornalista che si chiama Diana De Rossi, una donna molto affascinante, hanno costruito fra loro un rapporto molto intrigante, anche Diana De Rossi è sposata, quindi, tra virgolette, è un rapporto come forse ce ne sono tanti, però anche molto onesto, se vogliamo, fra loro due. Non con i loro... 4, 5, 6, 7 virgolette, mi dice. Però è anche dotato di una... è una persona che riflette. Il crimine, il... come dire, la crudelità umana con cui entra in contatto, inevitabilmente nella sua attività di commissario, tutto sommato è qualcosa che lo disturba, lo disturba profondamente. L'indagine per Cardona è gioco nel momento in cui cerca il colpevole, gioco a cui si appassiona, perché come un enigmista si appassiona a risolvere un regus, ma nello stesso tempo anche liberazione, come... scusa il termine, come spegnere un calcolo. è un calcolo da una società, però, che però si sente di espellere lui. Quindi, quando arriva alla fine delle indagini, Cardona è svuotato di energia, è per questo che dà l'impressione, non è mai contento, perché non si è contenti di andare a scoprire un telo con qualcosa di brutto sotto. E lui... e questa è la sua attività. La realtà di un poliziotto è cercare fra tanti deli che nascondono delle cose quello in cui c'è la cosa più brutta. Quindi, questa è la motivazione di quello che c'è. Benissimo. Allora, al prossimo romanzo. Bye-bye. Allora, al prossimo romanzo.